Buongiorno ragazzi, l'ennesima minchiata della mia vita. Perché fare un'avventura del genere andando proprio sul monte di San Michele? Perché Michele è portatore di equilibrio. Io mi sono fermata. Non c'ho voglia di far più niente. Mi sono chiusa dentro in casa. Mi sono chiusa dentro perché questa è la situazione continuamente. E ora sono qui a sclerare contro tutti. Cioè contro altri in particolare. Sto pensando, non so se devo salire o no. Mandarmene via. Mandarmene. E smetterla di continuare a pensare che posso arrivare fino a sopra. Succede sempre questo. L'anima è una cosa delicata. E si offende, è sensibile, è una bambina, è una femmina come me. Andava a piedi nudi per la strada. Mi vide come un'ombra mi seguì. Col viso in alto di chi il mondo ospita. E tiene ai piedi un uomo conosci. Negli occhi aveva un volo di gabbiani. Un corpo di chi ha detto troppi sì. Nel cuore la paura del domani. Come un ragazzo me ne innamorai. Allora, io non so tu, Walter, però io ho passato gli ultimi anni, diciamo, della mia vita in maniera molto isolata, chiusa, in casa. Avevo perso tutte le speranze. Avevo perso, diciamo così, il senso della mia missione. E poi mi dava i calci dentro il letto. C'è ancora il suo sapore qui con me. Perché lo sto facendo? Sto facendo prima di tutto per alzare il culo. Il mattino vado al bar dietro lo studio e mi prendo questo, ragazzi, cappuccino che è proprio... Ci stiamo fermando al bar sotto idea di Walter che ama perdere tempo. E quindi già questo dice qualcosa sulla nostra vita, perché... No, scherzo, dai, ti devo fare il te. Già questo dice qualcosa sulla nostra vita. C'è un insetto veramente straordinario, ragazzi. C'è un insetto veramente straordinario, ragazzi. Fino sopra la montagna dello zio Michele. E adesso sto pensando che questa cosa fa parte del cammino. Perché se io adesso scendo, la do vinta a qualcuno che non mi piace proprio. Io ho sempre pensato che fosse sfiga, in realtà non è sfiga. Sì, è accanimento. Tu mi sei testimone. Decisamente sì, Sara. Infatti le persone mi evitano perché appresso a me le cose diventano pesanti. Mi piace proprio che la deve finì. Che la deve proprio finì. E infatti saliamo. Perfessione per la zio Michele. Perché trash? L'unico modo per difendersi è sapere esattamente dove stiamo arrivando, dove stiamo andando, verso cosa stiamo camminando. C'è ancora il suo sapore qui con me. Animami a portami a casa tua. Insegnami a distinguerti dalla bugia. Amica mia, qualsiasi cosa sia, respirala col vento. Ti accorgerai che questo è già il momento. E così sia, senza tormento. O frenesia con il tuo tempo, portami con te fuori da questo deserto. Fammi compagnia. Che arriva l'inverno, ti sento in questa santa follia. Animami a mia.